Aiuti all'impresa e colpite dal maltempo, le aziende artigiane della Puglia che si trovano in difficoltà per le calamità naturali possono ottenere contributi fino a 5.000 euro finalizzati alla ristrutturazione delle strutture aziendali danneggiate e al ripristino del ciclo produttivo. Grazie al sistema della bilateralità, l'artigianato si è dotato di un welfare integrativo capace di coniugare virtuosamente risorse pubbliche e private e di tenere insieme la dimensione economica con quella sociale e solidaristica. Un sistema collaudato che nella stagione più dura della crisi ha fornito e fornisce ancora tuttora un contributo fondamentale per il mantenimento dell'occupazione e della capacità produttiva del settore. Le domande devono essere compilate sulla specifica modulistica messa a disposizione dell'EBAP, scaricabile dal sito www.ebappuglia.it o reperibile presso le sedi delle unità gestionali di Bacino o presso le organizzazioni datoriali dell'artigianato o le tre organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL. Grazie. Grazie a tutti.